volete stupire i vostri ospiti con uno sforzo davvero minimo allora provate queste deliziose sfiziose tartine sono velocissime e molto appetitose sono perfette per una pericena un finger food per le prossime festività di natale lascia brustolire delle fettine di pane su una griglia il loro con un filino di olio evo rigiro e lascia brustolire dall'altro lato nel frattempo divide in due parti delle olive de nocciolate falcite tra le fettine sottili dei ravanelli spalmo su ogni fetta di pane del formaggio spalmabile tipo filadelfia sistemo due fette di salame realizzo un ciuffo di formaggio spalmabile decoro con delle foglie di prezzemolo e fettine di ravanelli termine inserendo sul ciuffo di formaggio le olive de nocciolate con l'aiuto di un coppapasta incido delle fette di pane e cereali ottengo tante stelline taglio delle striscette di salmone affumicato arrotolo e forno una rosa sminuzzo gli steli di erba cipollina faccio il centro delle stelline con il formaggio spalmabile lo spargo con l'erba cipollina e decoro con la rosa di salmone insomma anche l'occhio vuole la sua parte queste tartine sono proprio carine super golose rappresentano un piccolo tocco di eleganza date libero sfogo alla fantasia per la scelta degli ingredienti e anche la forma da dare alle vostre tartine insomma 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 Grazie a tutti.